Un cordiale bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori, un nuovo appuntamento con TV City Focus, l'occhio lungo sulla città, ospitiamo questa sera in studio con noi l'assessore Anna Fiore del comune di Torre del Greco, buonasera assessore e bentrovato. Buonasera a voi, grazie per l'invito e buonasera a tutti quelli che ci seguono da casa. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito, assessore della città di Torre del Greco, tra le altre con delega al bilancio tributi e finanze, alle politiche giovanili e alle risorse umane. Bene assessore, io partirei dalla delega principale, dalla delega più importante che è quella del bilancio, bilancio e finanze. Si dice a tal proposito che la città di Torre del Greco, ed è una notizia da sempre confermata tra i comuni più virtuosi, non solo dell'area vesuviano-costiera, ma anche dell'intera regione campania. Un dato oggettivo, lo dicevamo prima, da più parti anche confermato. Qual è la sua idea al riguardo? Lei è assessore di nuovo insediamento, di recente nomina. Qual è lo stato effettivo delle casse comunali? Ma soprattutto, sfatiamo un mito e chiariamo che cos'è e chi è la figura dell'assessore al bilancio. Allora, partiamo dal presporto, sì, comune virtuoso. Io prima di rispondere alla domanda intendo un attimo di cosa si intende per virtuosità di un comune, di un ente locale. Ecco, appunto, anche questo. Definiamo il virtuosismo del comune. Allora, io posso dire, dal mio punto di vista da amministratore ed ente locale, posso dire che un comune virtuoso, e prima di poter poi procedere alla risposta della sua domanda, un comune virtuoso è un comune in grado di offrire alla cittadinanza un livello di servizi, prestazioni di qualità elevata, è un comune che presenta una macchina amministrativa efficiente e forte, in grado di dare risposte in tempi certi e brevi ai cittadini, e penso dal rilascio di un certificato anagrafe a una pratica SUAP. È un comune che è in grado di, che presenta ad esempio un livello di raccolta differenziata elevato, e ancora, è un comune che pone attenzione sulla sostenibilità ambientale e mette in campo buone pratiche, volte al raggiungimento di ciò, e che consente una forte partecipazione della cittadinanza all'attività amministrativa. Ecco, per me un comune virtuoso è questo. Se intendiamo in quel tal senso, Torre è un comune virtuoso, posso dire che noi ci siamo insediati nel mese di giugno e da quello, dall'idea che mi sono fatta, da quanto ho potuto apprendere, stanno presente sul territorio, non mi pare che Torre abbia questo tipo di caratteristiche. Se poi per virtuosità intendiamo lo stato finanziario dell'ente, beh, allora, su questo punto di vista dobbiamo dire, per me, come amministratore, è riduttivo per un amministratore collegare la virtuosità di un ente locale allo stato delle casse finanziario, perché poi basta, come dire, basta non spendere e quindi si ha un livello finanziario positivo. Quindi però non spendere per un amministratore vuol dire non mettere in campo tutta una serie di attività e servizi per la collettività. a riguardo tra i primi atti, e a riguardo infatti volevo, tra i primi atti che la nuova amministrazione, insieme al Consiglio Comunale, ha dovuto approvare, parliamo nel mese di agosto, è stato tra i primi atti, appunto, il rendiconto finanziario dell'anno 2022, che faccio una breve risultata, allora, il bilancio consultivo rappresenta differenza del bilancio preventivo, che in cui io vado a prevedere le entrate dell'ente e le spese dell'ente relative a un determinato esercizio, nel rendiconto, nel consultivo, io invece vado a fare una fotografia di quanto ho realizzato in quel esercizio, di quanto ho speso in quel esercizio. Ecco, approvare un rendiconto anno 2022, con un avanzo di amministrazione libero di più di 23 milioni di euro, mi pare di ricordare a memoria, beh, posso dire che se il Comune fosse un'impresa, direi, è un ottimo risultato, perché ho realizzato degli utili, ma poiché il Comune, un ente locale, non è un'impresa e la logica pubblica è diversa, nel senso che il non speso rappresenta non servizi erogati, opere non realizzate per la città, allora sotto questo punto di vista mi viene da dire che non è un buon risultato avere un avanzo libero così ampio, vuol dire che c'è stato un difetto di programmazione, ovviamente non è un avanzo che sarà nato solo nel 2022, ma è frutto di cumularsi degli anni e quindi abbiamo un difetto di programmazione che ci porta poi a non riuscire a realizzare ciò che si è programmato. Il ruolo invece dell'assessore al bilancio, chi è l'assessore al bilancio? Allora, l'assessore al bilancio, diciamo, rispetto agli altri assessori è, diciamo, all'interno della squadra giunta comunale, è un ruolo un po' più di retroguardia e che ti porta a stare a stretto contatto con gli uffici, in particolare nel settore finanziario. Il grande saggio. Non solo col settore finanziario, ma che comunque con le varie assessorati e fa in modo che la programmazione che un'amministrazione che l'ente intende realizzare e che vede il suo massimo, la sua massima ispezione nel documento unico di programmazione che l'attuale amministrazione ha approvato nel Consiglio Comunale di novembre, inizio novembre, in cui vi sono le linee di mandato del sindaco e dove viene rappresentato appunto quello che l'amministrazione eletta intende fare durante il mandato dei cinque anni, ecco, far sì che quegli atti di programmazione poi si possano trasformare in realtà dal punto di vista economico. e dal punto di vista diciamo prettamente economico. Su questo posso dire che vi è una preoccupazione in atto che è un po' diffusa tra le varie amministrazioni locali, non soltanto Torriere Greco, ma questo è un discorso un po' più generale, che riguarda purtroppo i tagli che sono adesso ad esempio previsti nella legge di bilancio che è in approvazione a livello nazionale, dove si parla, infatti c'è stata anche una nota da parte del Lanci al riguardo e dove si parla di tagli per gli enti locali per l'anno, l'esercizio 2024, di circa 200 milioni, 200 di milioni di euro. Si ritorna dopo otto anni a parlare di spending review, che è il taglio della spesa e a ciò si aggiunge che il comune, prendo esempio sempre il comune di Torre, ma un po' anche gli altri enti locali, in passato sono riusciti a ottenere grandi trasferimenti dallo Stato, trasferimenti che poi ad oggi si sono notevolmente ridotti, facendo leva più sulla finanza locale, questo è l'effetto del federalismo fiscale. A riguardo volevo anche ricordare che in Consiglio Comunale, proprio il Consiglio che c'è stato questa settimana, tra i punti all'ordine del giorno, vi è stata una mozione portata avanti come primo filmatario il Sindaco e altri gruppi di maggioranza, che riguardava proprio una presa di posizione nei confronti del decreto Calderoli, che era sull'autonomia differenziata. La preoccupazione degli enti attuali e dell'assessore a bilancio, di chi tiene i cordoni della spesa, è proprio legata quello che è garantire i servizi essenziali alla cittadinanza, riuscire a realizzare quanto ci sia inteso realizzare con i propri programmi e allo stesso tempo mantenere ferma l'equilibrio di bilancio. Chiara, anche se la materia tecnica impone un minimo di orientamento, però devo dire la verità, ringrazio l'assessore per la chiarezza. Lo citava prima, trasferimento di fondi, parliamo quindi di fondi PNRR, fondi PICS, Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e Programmi Integrati Città Sostenibile. Nel corso dell'ultimo quinquennio amministrativo oltre 60 milioni di euro sono stati intercettati da finanziamenti extracomunali e sono stati investiti in programmazione di opere pubbliche da realizzarsi sul territorio, a cui poi si aggiungono anche altri fondi comunali per opere da realizzarsi. Una spesa economica considerevole, quale ricaduta lei ritiene, possa avere in termini di bilancio sulla capacità economica della città e eventualmente nel caso in cui qualcosa non dovesse realizzarsi, se ci sono rischi per le stesse finanze della città di Torre del Greco. Allora, su questi fondi diciamo che non tutti sono stati investiti e quindi abbiamo realizzazioni di opere e su questo aspetto diciamo che, come possiamo dire, la preoccupazione sappiamo che il PNR ci impone tutto un cronoprogramma di attività con la realizzazione delle opere collaudate nel 2026 e mantenere questo cronoprogramma così alto non è semplice, soprattutto per un'amministrazione che presenta una macchina comunale molto rallentata, debole, a riguardo penso al settore tecnico che è sottodimensionato e quindi non è semplice. Ovvio che però risorse intercettate non possono essere assolutamente sprecate ma bisogna fare il possibile affinché si riescano a rispettare tutte le tappe previste e si riesce quindi a realizzare le opere per i nostri territori e in questo c'è il pieno impegno da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda i PICS, i PICS nascono nel 2019 e vado a memoria era un programma che prevedeva un impegno di diverse opere per un totale di circa 13 milioni di euro. Le opere previste con questo programma PICS dovevano essere chiuse in modo da essere poi i rendi contati entro il 31 dicembre di questo anno 2023. A riguardo proprio qualche giunta scorsa, l'amministrazione comunale, abbiamo deliberato una rimodulazione di questi fondi in modo da non doverli perdere perché si era accumulato soprattutto negli ultimi due anni un forte ritardo sull'utilizzo di queste risorse e quindi abbiamo assunto una delibera rigiunta in cui c'è una rimodulazione degli stessi proprio al fine di non perdere nemmeno un euro di quanto è stato percepito. Però mi faccia dire che programmazione, fondi PNR, pensiamo soldi, risorse che sono tenenti all'aspetto materiale, quindi in opere pubbliche, ma in realtà c'erano tanti altri aspetti, applicazioni e in questo ad esempio penso alle politiche sociali, dove anche lì c'era la possibilità di poter reperire numerevoli risorse, politiche sociali che purtroppo abbiamo ereditato, abbiamo ereditato una situazione a quanto difficile perché anche in quel caso manca una programmazione, non si sono riperiti i fondi e ciò vuol dire che i servizi che sono i servizi essenziali, che non possono essere sospesi e che tengono a settore politiche sociali, devono essere coperte col bilancio del comune, quindi con risorse interne. San Meglio di me capirà che se si fosse riusciti a reperire fondi da PNR era un modo anche per liberare poi le risorse comunali e poterle destinare a un altro tipo di attività sempre a favore e a servizio della cittadinanza. La ringrazio Assessore, cambiamo ora argomento, lei lo accennava prima, direbbe Dante Orquilettor comincia alle dolenti note, parliamo infatti di risorse umane, un dramma degli ultimi anni in tante realtà locali, tra le quali anche quella della città di Torre del Greco e proprio la carenza di personale, complice anche la fuga dagli enti pubblici, dal mondo del lavoro, col provvedimento grazie al provvedimento governativo Quotacento, a cui non è corrisposto, l'abbiamo detto già in più sedi, già tante volte, un analogo provvedimento di reinserimento di risorse umane nel circuito lavorativo. Qual è da questo punto di vista la fotografia, la realtà del comune di Torre del Greco? Quali energie, quali strategie, quali azioni politiche detiene di dover mettere in campo, almeno per dare un sollievo al problema della nostra comunalità? Allora, sotto questo aspetto diciamo che parliamo, ritorno alla prima domanda che mi è stata parte, Torre del Greco è un comune virtuoso. Ecco, noi abbiamo ereditato una situazione dal punto di vista dell'organico molto molto deficitaria e se si riesce ad offrire, a continuare ad offrire, se si è riusciti ad offrire i servizi alla cittadinanza, anche se ovviamente rallentati perché le risorse sono, è solo grazie al lavoro che viene fatto dai dipendenti comunali e dal loro senso di responsabilità verso anche la città, verso la città, verso la città di Torre. Noi basti pensare, noi quando ci siamo insediati nel mese di giugno ci troviamo già dal punto di vista dirigenziale con tre dirigenti andati via, quindi una riduzione del numero dei dirigenti e poi ha portato tra i primi atti da parte del sindaco a dover ridistribuire un attimo le deleghe tra i dirigenti rimasti. Da punto di vista capirà quindi con un accavallarsi di settori e quindi di competenze e quant'altro che venivano e rallentamenti dei processi di cui parlavamo prima. In più da punto di vista dei dipendenti basti pensare un numero fra tutti, fine 2016, inizio 2017, il comune di Torre poteva contare più oltre 600 dipendenti. Attualmente abbiamo la pianta organica è formata da 186 dipendenti compresi la polizia municipale in questo dato. Per una realtà come Torre del Greco, 80.000 abitanti, cioè quale dovrebbe essere un numero organico efficiente di dipendenti? Allora, infatti lei ha tolto... Perché veniamo da anni d'oro, da 1100-1200. Infatti questo, per non parlare, degli anni 90 dove infatti oggi chi sta, va in pensione prossimo alla pensione mi racconta che quando è entrata appunto la comune di Torre c'erano 1100-1200 dipendenti. Era un'altra epoca, forse quel numero era eccessivo, è un numero eccessivo, assolutamente eccessivo. Vero è che nel corso degli anni ci sono state poste tutta una serie anche di limiti, di assunzioni, perché poi le assunzioni non è che si può giungere, si dice assumo 100 piuttosto che 200, bisogna comunque stare all'interno di un limite di spesa che viene calcolato e nel rispetto di delle soglie che non sono qui a spiegare. Di certo un comune come Torre del Greco di 82 mila abitanti... Scensiti, perché la città sembra dal traffico urbano molto più... Con estensione territoriale molto vasta, solo a livello del Torania abbiamo più di 12 chilometri di Torania, con 33 chilometri mi dicevano di complessivi totali, quindi capirà che un numero là dovrebbe essere almeno il doppio il numero di abitanti, anche se di dipendenti diciamo. Però vero è che noi dobbiamo comunque stare all'interno dei limiti che ci vengono posti a livello nazionale e in ciò mi preoccupa anche il fatto che nell'anno 2024, gennaio 2024, verrà rintrodotto il patto di stabilità. Ad esempio che comunque anche questo aveva un'incidenza sulle assunzioni. Io mi auguro e spero che se ciò venga confermato, l'introduzione del patto di stabilità, si rivedano le regole che sono alla base del calcolo dello stesso perché... Diventa poi davvero complesso. Sì, perché è cambiato un mondo, non voglio ricordare il Covid, gli effetti dell'inflazione, l'aumento dei prezzi, quindi è cambiato un mondo e non si può pensare di avere le stesse regole per poter agire. Secondo lei come si può fronteggiare questo problema? Allora, noi a riguardo posso dire che come stiamo operando? Innanzitutto abbiamo dovuto diciamo un po' riorganizzare, volevo dire ricostruire, ma riorganizzare il settore risorse umane del comune di Torre del Greco, perché anche lì c'era una fortissima carenza di personale, però capirà, se io non ho un settore organizzato, io non posso poi espletare tutte le procedure, non posso calcolare il fabbisogno, non posso poi procedere. E quindi come primo passo, e in ciò ringrazio il lavoro svolto dalla dirigente del settore, Aritermi, che oggi è la dottoressa Sorrentino, che assieme al segretario comunale stanno facendo un grande lavoro e riusciamo a ricostruire nel breve tempo possibile e dare forza alla macchina amministrativa. Abbiamo come primo atto, allora, le strade su cui stiamo andando avanti sono due. Una, noi abbiamo ereditato delle procedure di assunzione già in corso e quindi stiamo portando avanti a conclusione le procedure in corso e le stiamo quindi portando a conclusione. In più abbiamo approvato il PIAO 2023-2025 in cui viene indicato il fabbisogno di personale relativo all'anno 2023. In questo fabbisogno del personale anno 2023, sulla base dei limiti di cui le parlavo prima, delle soglie previste e limiti assunzionali, abbiamo previsto l'assunzione di 23 figure relative di competenza anno 2023. In queste abbiamo le figure dirigenziali e sono in corso e di conclusione le procedure per i dirigenti, due articoli 110,1 e due articoli 110,2. In più poi sarà bandito un concorso anche per i dirigenti a tempo indeterminato. In più stiamo procedendo, sempre secondo il PIAO che abbiamo approvato noi, all'assunzione di 20, altre 20 figure col ruolo di funzionari e tra questi abbiamo, siamo andati in attimo a fare una fotografia dei settori e capire di cosa, la necessità attuale, la priorità attuale, premesso che sono tutte priorità quelle che abbiamo trovato. Quindi tra le figure individuate abbiamo pensato ai tecnici, quindi abbiamo previsto l'assunzione di 6 figure funzionari tecnici, informatici, funzionari informatici, due figure informatici, due funzionari amministrativi contabili, poi abbiamo ancora tra questi due funzionari assistenti sociali, perché anche qui abbiamo trovato una grande carenza di personale. ma si pensa, ecco, torniamo, un comune di 82 mila abitanti può avere soltanto tre assistenti sociali e noi abbiamo trovato una realtà dove poi c'è un parametro che ci porta ad averne uno ogni 4 mila abitanti. Previsionale dei tempi per la realizzazione di questi interventi? Allora, noi, le figure dirigenziali entro questa settimana saranno chiuse. Le mobilità previste nell'anno 23, anche quelle sono state già fatte gli avvisi pubblici e sono anche qui in fase di colloquio e quindi entro dicembre ci si propone la chiusura anche di queste procedure qui. Le procedure ereditate, anche le procedure ereditate, in cui c'erano più dedicate, diciamo, istruttori amministrativi, istruttori contabili, anche qui si è portata a conclusione e poi c'è la procedura poi concorsuale, che è quella in atto, le procedure ereditate. Infatti, proprio questo è oggetto di un'altra domanda. L'amministrazione Palomba aveva immaginato la possibilità di realizzare un concorso pubblico per l'immissione di nuove unità nell'organico comunale, un concorso che l'amministrazione Mennella non ha inteso revocale. Quali sono gli sviluppi, quali sono i tempi e dentro quale periodo si porterà a compimento anche questa procedura? Allora, sì, facendo un breve capitolo, si tratta di una procedura concorsuale che prevede 32 assunzioni part-time, tutti profili C, dove avremo 22 istruttori amministrativi, 8 istruttori tecnici e poi il resto sono istruttori contabili part-time. Una procedura che abbiamo ereditata dalla precedente amministrazione, dove erano stati già aperti l'avviso e che si è concluso nel fine marzo scorso, se non ricordo male, e sono pervenute poco meno di 5.000 domande per questo concorso. I tempi di realizzazione, posso dire che sempre con grande fatica si stanno portando avanti anche questo fronte, perché si renderà conto che le cose che ho detto anche prima sulle procedure che stiamo portando avanti, mobilità, dirigenti, è un lavoro in male che le parole non riescono a far comprendere il grande lavoro che c'è dietro per poter realizzare tutto questo. Quindi può anche un concorso con 5.000 domande. E' enorme. Allora, le posso dire che gli uffici stanno lavorando affinché entro fine dicembre ci sarà determina dirigenziale con l'elenco degli ammessi e degli esclusi tra questi 5.000 e poi si procederà inizio anno con l'espletamento delle prove concorsuali. A riguardo, torniamo alla questione della programmazione, un concorso come ha detto lei che è nato dalla precedente amministrazione che noi abbiamo comunque ereditato e che porteremo avanti e che dobbiamo dovuto, parlo anche da assessore a bilancio, quindi abbiamo dovuto trovare le risorse e quindi stanziare le risorse in questa fase perché non erano state previste nel bilancio prevenzionale che abbiamo ereditato. Ecco, quando parlo di programmazione, il gap della programmazione, la difficoltà di programmazione è anche questo. Fortunatamente siamo riusciti a reperire le risorse, a porne in bilancio e già a partire dal dicembre in modo da poter chiudere tutti gli atti e a partire dal nuovo anno a dare conseguenzialità. Esatto. Grazie assessore, ci avviamo alla conclusione, ultima domanda anche per lei, parliamo ora di giovani, una tematica importante per la città di Torre del Greco che è ricca di realtà giovanili impegnate in diversi ambiti, dal sociale al volontariato, da quello culturale a quello sportivo sino a quello artistico. Abbiamo anche un forum dei giovani che proprio in questi giorni si avvia al rinnovo delle proprie cariche, qual è anche in questo caso la sua fotografia a riguardo, quali azioni politiche e strategiche lei ritiene debbano mettersi in campo per valorizzare, potenziare, rilanciare la risorsa giovanile in città. Dice bene, c'è un forte attivismo territoriale che va percepito e va messo a sistema, vanno coinvolte le realtà locali, giovanili all'interno della vita amministrativa, perché io lo dico sempre, chi ha la delega, ha le politiche giovanili, non possiamo, la differenza generazionale ci rende difficile comprendere quali siano le reali richieste e bisogni dei giovani, ecco perché sono loro che debbono indicare a un amministratore le necessità di cosa si ha bisogno e nel fare ciò bisogna costruire un rapporto, una relazione tra chi amministra e chi vive il territorio. Molto spesso politiche giovanili quando si parla di giovani si pensano solo a problemi, bullismo, aggressività, azioni negative. Quando poi non è questo, io sono convinta che i giovani siano gli adolescenti, i giovani siano persone migliori di noi adulti che molto spesso non siamo in grado di dare l'esempio e che abbiamo tanto da imparare. Cosa immagina nel settore? In questo volevo dire, importante innanzitutto è il ruolo del forum dei giovani, perché il forum è quell'organismo, perché è l'organismo amministrativo che permette di creare questo legame tra l'amministrazione e il mondo giovanile territoriale, perché io vedo il forum come un luogo di proposte, proposte che vengono dal mondo giovanile e che vengono fatte all'amministrazione ed assieme all'amministrazione si trovano in modo per realizzare. A riguardo abbiamo indetto le elezioni, perché era in scadenza il precedente forum, elezioni che si terranno il 26 e il 27 gennaio, troverete sul sito del Comune, anzi auspico una forte partecipazione alla parte dei giovani dai 16 ai 34 anni e sul sito del Comune c'è tutto chiarito come candidarsi, come presentare la domanda, domande che vanno presentate entro il 6 gennaio. Altre azioni da mettere in campo? Allora, io, un'altra cosa che ho notato, Torre non ha un luogo, non ci sono luoghi di aggregazione giovanile e io, allora, io, nell'epoca dello smartphone, dove ormai è tutto social, io su questo sono un po' la vecchia maniera, io penso che dobbiamo recuperare gli spazi fisici, esatto, gli spazi fisici e le relazioni, dobbiamo recuperare il rapporto umano nel guardarsi negli occhi e è in questo un ruolo, secondo me, per poter andare in questa direzione è l'individuazione di spazi da destinare all'attività giovanile, luoghi di aggregazione in cui ci si incontra, dove i ragazzi possono esprimere le proprie, ma anche la propria arte, luoghi in cui si possa fare musica, dipingere e allo stesso tempo creare la vecchia informa giovane un po' rivalorizzata, in cui chi esce dal mondo della scuola possa avere un luogo dove possa trovare anche informazioni su quello che è il mondo, sulle richieste, sulle competenze che vengono effettuate, che sono richieste oggi dal mondo del lavoro. Così come, le dicevo prima, io vengo da un'esperienza fatta da poco, sono rientro da Bruxelles, dove sono stato il Comitato delle Regioni e tra le cose che mi hanno colpito, che erano una formazione su buone pratiche, le pratiche più belle erano i progetti che venivano proprio dai giovani e noi dobbiamo trovare il modo di favorire tutto ciò, questo accesso. In più è importante anche per i giovani che facciano esperienze all'estero, di formazione, che capiscano che cos'è il mondo fuori, diciamo, Torre, ma fuori anche dell'Italia e poi ritornino nei nostri territori e portano sui territori l'esperienza e le buone pratiche. Ecco, noi ci impegneremo, proveremo a fare ciò. Con i migliori auspici, allora, assessore, anche per lei l'invito e l'augurio fatto agli altri colleghi con l'impegno di ritrovarci nei mesi prossimi a discutere delle successive opportunità, delle nuove progettualità che saranno messe in campo per la città di Torre del Greco. Io nel frattempo la ringrazio di aver accettato il nostro invito e di aver trascorso questo tempo insieme a noi. Ringraziamo l'assessore Anna Fiore del Comune di Torre del Greco. Io ringrazio tutti i nostri amici telespettatori che anche questa settimana ci hanno scelti, sono stati in nostra compagnia, ci hanno ascoltati. Mi raccomando, restate aggiornati con le nostre notizie e la nostra informazione. Con questo è davvero tutto, appuntamento alla prossima settimana. Buonasera da Salvatore Verino.